Napolitano ha fatto un governo ogni una notte, si sono messi in tre a fare un governo ogni una notte e non fare in tre, ecco qual è, ecco qual è il gradimento e io sono qua formalmente a dirvi che abbiamo pronto l'impeachment per Napolitano, se ne deve andare